Diano Marina ieri ha festeggiato Sant'Antonio Abate, titolare della parrocchia. Al mattino la Santa Messa Solenne è presieduta dal Vescovo Guglielmo Borghetti, animata dalla corale parrocchiale. Nel pomeriggio i Vespri Pontificali e a seguire la processione con la Statua del Santo per le vie della città, che ha visto la partecipazione della banda musicale Città di Diano Marina, le confraternite, le associazioni laicali e le autorità civili e militari della città degli Aranci.